continuo al mio giro per l'ustrativo della città siamo arrivati in questo punto punto c'è un cantiere vi farò vedere una cosa molto caratteristica come risparmiano sul costo della manodopera l'omino che avvisa dei lavori in corso che dirige la baracca è praticamente un robot è sostituito da questo da questo qua questo è l'omino dei lavori in corso in questo modo in malesia si sono scogittati su come risparmiare sul costo della manodopera che anche qua nonostante lavorino per un pugno di riso comincia la manodopera comincia a costare in questo modo si sono scogittati un sistema per poter risparmiare quindi i lavori vengono fatti in in economia ecco questa un po la panoramica ci sono gli hotel di tanto in tanto cioè le scene le persone che dormono in strada mi ricordano il brasile abbiamo purtroppo tante gente che si arrangiano come possono dormono si riparano qui sotto un ombrello su un cartone in qualche in qualche modo si arrabattano a vivere in qualche modo e subito accanto abbiamo hotel hotel allineati con gli standard europei ecco questa è la malesia questo state carpendo anche voi le mie primissime impressioni vi farò vedere in questi giorni ancora altre cose eccoci qua di notte non c'è in giro nessuno accetto lavoro in corso di cantiere ok ci aggiorniamo a dopo eccoci qua eccoci qua